di nuovo un saluto a voi che ci seguite su formobiles.info video da microsoft lumia 950 xl inquadriamo la targa del signore contromano che è veramente impazzito che cazzo sta facer perfetto inquadriamo la targa questo che non viene messa a fuoco benissimo hashtag polizia municipale di pordenone benissimo come vedete a 60 fps lo zoom massimo è molto limitato per via dell'interpolazione che viene ridotta per poter comunque catturare abbastanza luce nei video in notturna è possibile fare gli slow motion lì nel frattempo c'è la nostra patente di natale che continua a girare per la piazza e vedete che a 60 fps rispetto ai video a 30 fotogrammi al secondo abbiamo un pochino più di fluidità la stabilizzazione digitale è stata personalizzata con l'ultimo aggiornamento ok e nello specifico mi riferisco al fatto che è stata inserita una spunta per attivare o disattivare la stabilizzazione digitale dell'immagine che in questo caso viene definita come automatica io direi di fermarsi qui per questo video in full hd ma a 60 frame al secondo da lumia 950 xl un saluto e buone feste da formobiles.info grazie a tutti